Il primo a intervenire può essere il professor Amendola che introduce il vincitore e spiega le motivazioni per cui la giuria del premio Di Cecco gli ha dato questo riconoscimento, cui anche io mi associo perché veramente si tratta di un saggio splendido. Insieme a Upo Cavano e poi al professore Felice abbiamo deciso di premiare questo lavoro, un lavoro particolare, un lavoro che a prima vista sembrava non rientrare nella visione della prospettiva un pochino della filosofia di Marcello Di Cecco, un lavoro molto particolare, il controllo del traffico marittimo degli alleati durante la Prima Guerra Mondiale. E poi l'abbiamo letto e ci siamo resi conto di molte cose molto interessanti, molto interessanti il lavoro, ma soprattutto, vabbè, lui l'ha scritto, credo, molto prima di sapere quali sarebbero stati i temi trattati in questo incontro. Ma è un lavoro che sembra scritto apposta per andare d'accordo con la prima parte del nostro incontro, sui problemi del trasporto. Ancora, è un tema che riguarda particolarmente la prospettiva dececchiana, diciamo. Fa riferimento a dei fatti, fa riferimento a dei fatti storici, guarda fatti storici che rimangono la base, che sono innovativi e che riguardano la base di un'analisi che va al di là dell'esame del singolo fatto per aprirci degli orizzonti che poi sono stati importantissimi. Ancora, come ci ha detto il professor Cascetta l'altro giorno, ci sono alcune innovazioni, questa era l'innovazione in un certo senso, che sono seme per laberarsi, verificarsi di altre innovazioni più grandi in altri campi, in altra direzione. Ora voi sentirete dall'esposizione che vi farà il nostro giovane vincitore che in fondo molte cose sono derivate da questo particolare controllo fatto per motivi tecnici. I sottomarini tedeschi affondavano gran parte dei trasporti e bisognava fare qualcosa. qualcosa è stato fatto, da questo qualcosa che è stato fatto sono derivate cose importanti. Lo studio statistico e la creazione nel tempo di istituti statistici, la comunità cieca del carbone e dell'acciaio, e spingendosi forse anche una visione della Unione Europea. Buonasera a tutti, come vedete mi sono preparato una relazione che sembra lunga, ma non vi spaventate, è molto più breve di quello che sembri, è il formato a tradirla. E' un piacere essere qui, io sono peraltro di San Benedetto del Tronto, che fa parte di un'entità nota ad alcuni come Marcuzzo, quindi in realtà non sono trapassato in una regione diversa dalla mia. E' un piacere incontrare voi, dialogare poi anche con le persone che magari ci seguono da casa. Comincio dai ringraziamenti, desidero ringraziare innanzitutto la giuria e tutti i soci dell'associazione, Marcello De Cecco, per aver ritenuto il mio elaborato degno di questo premio, intitolato alla memoria di uno dei più famosi economisti storici dell'economia del nostro paese, e uno dei più grandi divulgatori anche. Ringrazio anche tutta la parte logistica, coloro che hanno reso possibile queste giornate, che mi hanno accompagnato e accolto in questi giorni. E sono veramente onorato di ricevere questo riconoscimento, che vorrei vedere più come un tributo alla vicenda trattata, che è significativa e fondamentale nella propria parabola, seppur brevissima, piuttosto che al mio lavoro, che ha forse il solo merito di aver portato alla luce frammenti di una discussione che va avanti ormai da un secolo, e permette di inserirci in un dialogo vivo con le fonti. E poi ringrazio anche tutte le persone, sono molte che hanno reso possibile questo paper, visto che questa, come qualsiasi altra, è stata in realtà un'opera collettiva, ovvero frutto di tutte quelle impressioni e ispirazioni che vengono solo dal supporto e dal confronto con il prossimo e che rendono anche noi d'altra parte delle pluralità. Non posso promettere di non essere noioso, ma cercherò di limitare questo inconveniente per quanto possibile. Siamo ormai da un anno e mezzo, come ci hanno ricordato gli interventi precedenti, immersi in una crisi che ha sconvolto le nostre vite nei propri fondamenti materiali e nelle convinzioni più elementari. Le crisi in realtà, e questo a mio parere personale, non sono altro che il nome che l'uomo moderno ha ideato per indicare la permanenza carsica di quella che è stata la storia umana. Le epidemie, così come le guerre, hanno caratterizzato in maniera sistematica le vicende della nostra specie, e se oggi le indichiamo come crisi, è forse per esorcizzare la nostra consapevolezza dell'implausibile eternità di un eccezionale privilegio, che è quello della pace, della salute, del benessere. E più di cento anni fa, sull'onda di sconvolgimenti profondissimi dovuti all'azione dell'uomo sull'uomo e che erano sembrati remoti per l'Europa della Belle Epoque, milioni di persone dovettero confrontarsi con violenze inaudite e privazioni senza precedenti. La Prima Guerra Mondiale, totale nella propria pretesa di subordinare la vita dei popoli e la massima efficienza dello sforzo bellico, richiese un supremo lavoro di studio e calcolo economico, dove per economia intendiamo l'uso ragionato di risorse scarse al fine di raggiungere una serie di obiettivi gerarchicamente ordinati all'interno di una collettività. E la scarsità di risorse poteva essere amministrata attraverso una pianificazione dopo i primi mesi del conflitto, allorché si comprese che tale scontro non avrebbe avuto una durata breve, ma sarebbe stato anche, se non del tutto, una guerra di logoramento, in cui tramite le proprie risorse si mira a consumare nel modo più efficiente possibile quelle della controparte. Drammatico fu però l'impatto della guerra sottomarina, lanciata nel 1917 dalla Germania e che sconvolse i delicati equilibri raggiunti. Il grande ammiraglio Henning von Holzendorf decise nel febbraio 1917 di ricorrere a una mossa disperata per mettere in ginocchio i circuiti di approvvigionamento degli alleati. L'obiettivo era quello di affondare 600.000 tonnellate di vastimenti alleati diretti soprattutto verso il Regno Unito, in modo tale da indurre in Gran Bretagna una penuria di genere alimentare di prima necessità come carne e grano, ma soprattutto di legname scandinavo. Ciò avrebbe minato la produzione di carbone e di converso quella di acciaio e ghisa, piegando le capacità belliche inglesi inglesi e dunque quelle alleate. E per dare una misura del successo tedesco in una singola notte nell'aprile del 1918 ben 122 bastimenti adatti alla navigazione di alto mare vennero affondati e più tonnellaggio fu perso nei primi dieci mesi del 1917 che in tutti i precedenti due anni e mezzo di guerra. Due iniziative vennero prese in quelle settimane drammatiche. La prima fu quella del sistema di convogli, idea suggerita dal comandante Henderson sulla base della teoria che un insieme di navi assemblate in un convoglio risultasse meno visibile di tanti bastimenti lasciati navigare individualmente. Teoria successivamente suffragata assolutamente dalla pratica a cui si andò peraltro a raggiungere un effetto di deterrenze inizialmente non preso in considerazione. La seconda iniziativa venne presa invece sul suggerimento di quelli che in inglese vengono chiamati public or civil servants due impiegati di medio-alto rango delle rispettive amministrazioni inglese e francese. Il primo, James Hawthorne Salter aveva 36 anni ed era proveniente da un'aggiata famiglia di imprenditori di Oxford specializzata nel trasporto su barca sul Tamigi. La Salter Steamers che peraltro gestisce ancora oggi il punting service a Oxford di celebri e pittoreschi giri sulle gondole. Laureato sia a Oxford di lettere classiche presso il Brazenos College famoso per il Brazenos College Boat Club uno dei primi club di canottaggio al mondo Salter aveva lavorato da giovane presso l'ammiragliato dell'impero venendo poi richiamato allo scoppio della guerra per ricoprire il ruolo di responsabile per le requisizioni navali. Il secondo era un giovane di 29 anni originario del cognac e si chiamava Jean-Omer-Marie Gabrielle Monet proveniente da un'aggiata famiglia produttrice ovviamente di cognac. Il cognac Monet è ancora oggi uno dei più ricercati in Francia e una bottiglia del famoso cognac XXO può arrivare a costare fino a 400 euro. Jean aveva passato gli anni precedenti la guerra a gironsolare per il mondo come rappresentante della ditta di famiglia dopo aver abbandonato l'università e riformato per motivi di salute la leva militare grazie a degli agganci informali era riuscito a diventare aiutante di Clementel ministro del commercio e dell'industria francese Monet sin dall'inizio della guerra si era adoperato per vedere realizzata una più stretta cooperazione logistica tra i vari paesi alleati sua era stata l'idea del Wheat Executive organismo che aveva centralizzato la distribuzione e l'acquisto di grano e cereali da parte dei paesi alleati sin dal 1916 tale organizzazione aveva la peculiarità di non contemplare la regola dell'unanimità ma di affidarsi a giudizi tecnici nell'adempimento delle proprie funzioni che vincolavano tutti i paesi partecipanti e quando Monet venne a sapere che il Regno Unito aveva intenzione di non offrire più parte della propria flotta commerciale ai paesi alleati in prestito per il trasporto di beni di prima necessità capì che ciò avrebbe significato il collasso della Francia visto che il 48% delle importazioni del paese transalpino veniva trasportato su imbarcazioni britanniche si mise in contatto con Salter conosciuto nell'ambito del WIT Executive e dopo aver confermato con lui le voci di corridoio gli propose di trovare una soluzione alternativa avendo compreso che anche l'ufficiale inglese aveva perplessità su tale iniziativa nacque così durante un incontro informale tra gli stessi Salter Monet e John Beale chairman del WIT Executive l'idea originaria per una nuova organizzazione che centralizzasse la gestione dei trasporti marittimi degli alleati a livello sovranazionale il modello iniziale era rappresentato da WIT Executive laddove però le responsabilità del nuovo organismo si sarebbero estese su un inventario molto più ampio di beni alla conferenza di Parigi del 29 novembre 1917 dopo una lunga fase preparatoria si arrivò tra i paesi alleati a una decisione fidale che vide la nascita del Consiglio interalleato di trasporto marittimo in inglese Allied Maritime Transport Council o semplicemente il Consiglio la decisione venne presa sulla base di un documento redatto da Salter e dal titolo La necessità dell'assistenza americana e della cooperazione alleata il Consiglio interalleato prese vita a materiale solo cinque mesi dopo la conferenza di Londra nel marzo 1918 e Salter stesso venne nominato segretario gli incontri avevano luogo a Lancaster House nel distretto di Westminster a Londra lo stesso luogo che cento anni dopo nel gennaio 2017 fece da coreografia per il discorso tenuto da Theresa May sulle future relazioni tra Regno Unito e Unione Europea dopo la Brexit discorso divenuto famoso per la frase no deal is better than a bad deal questa è una delle grandi ironie della storia il primo incontro del nuovo organismo ottenutosi dall'11 al 14 marzo 1918 si occupò dell'Italia si decise infatti organizzò col supporto di Francia e Gran Bretagna l'invio di 350.000 tonnellate di carbone per il nostro paese in un mese a cominciare dal 15 marzo per tutti i mesi successivi il consiglio continuò a prendere decisioni di questo tipo studiando le disponibilità in termini di imbarcazione e di trasporto ferroviario dei paesi alleati e ampliando la propria autorità su un insieme rilevante di risorse legname cereali zucchero sughero carbone metalli munizioni un ruolo decisivo nell'espansione delle competenze del consiglio lo ebbe anche l'Italia nella persona di Bernardo Attolico che nel 1916 aveva rappresentato l'Italia nel WIT Executive nel World Purchases and Finance Council Attolico sarebbe poi stato per diversi anni sottosegretario alla società delle nazioni prima di un'insigne carriera diplomatica sotto il fascismo prima a Mosca poi a Berlino e presso la Santa Sede molto probabilmente molti lo conosceranno per la famosa lista del Molibdeno la stessa che venne comunicata a von Ribbentrop il 26 agosto del 1939 in cui l'Italia si impegnava a entrare in guerra a fianco della Germania solamente se i tedeschi avessero fornito 600 tonnellate di Molibdeno superiore alla produzione annuale alla produzione di un singolo anno di Molibdeno di tutto il globo e da quel momento in poi il Regno Unito in pratica Attolico ebbe un merito perché una sua lettera a Lord Corson segretario del gabinetto di guerra spinse Austin Chamberlain membro anche egli del War Cabinet inglese a vincere le resistenze interne dell'amministrazione britannica e in primis quella di un giovane Keynes restiò a vedere un esteso controllo pubblico su un numero elevato di beni e risorse a difesa sia dell'ortodossia liberale di cui era ancora convinto sostenitore all'epoca sia dei privilegi dell'impero britannico di cui era un orgoglioso public servant da quel momento in poi il Regno Unito maggiore forza navale al mondo fu riconvertito in pochi mesi dal ruolo di gelosa forza imperialista a quello di benevolo egemone disposto a condividere non solo i propri bastimenti circa il 50% del tonnellaggio navale totale a livello mondiale ma anche dati saperi e intelligence in cambio di tale eccessione di sovranità importante lo immaginerete data la natura navale marittima dell'impero britannico vennero lasciate agli inglesi dei privilegi ad esempio il diritto di ospitare a Londra la sede della nuova organizzazione e la possibilità almeno teorica per ciascun paese di porre il proprio veto sulle decisioni prese all'interno del Consiglio tra maggio e giugno 1918 il Consiglio raggiunse la propria configurazione finale in una struttura ibrida vennero costituite quattro divisioni nazionali ciascuna responsabile di lavorare in maniera tecnica approfondita sulle situazioni di approvvigionamento e trasporto nei rispettivi paesi e i capi di ciascuna divisione sedevano nell'esecutivo dell'autorità che aveva funzione di coordinamento nel quale erano presenti Salter Monet Attolico e George Rubley per gli Stati Uniti i membri dell'esecutivo che si occupava dell'amministrazione pratica e giornaliera del Consiglio avevano un duplice ruolo e questo anche molto interessante quando agivano come capi delle proprie divisioni riportavano sempre il punto di vista concordato all'interno dell'esecutivo mentre quando riuniti in una sessione ufficiale riportavano il parere delle proprie divisioni e gli input politici dei rispettivi governi vi erano poi una serie di unità interne all'organizzazione pienamente internazionali dove gli ufficiali dei vari paesi si spogliavano dei propri punti di vista nazionali per assumere una prospettiva comune questi erano il sottocomitato per il tonnellaggio quello per le importazioni e infine il sottocomitato statistico che dovette occuparsi non solo della raccolta dati dalle rispettive divisioni ma anche della sfida tecnica di allineare sistemi di misurazione e di calcolo spesso frammentati per linee nazionali un segretariato anch'esso internazionale coadiuvava l'esecutivo mentre una sezione di intelligence vera e propria venne devoluta dal governo britannico al consiglio in pratica il servizio di spionaggio navale britannico smetteva di essere appannaggio degli inglesi per condividere informazioni e modus operandi con il personale alleato e nella propria breve esistenza occorre considerare che il consiglio arrivò a controllare il 90% del trasporto marittimo globale portando a buon esito una serie di imprese titaniche non solo approvvigionamento di materie prime infatti il consiglio riuscì a gestire il trasporto di 4.760.000 tonnellate di carbone in Italia nell'arco di soli otto mesi ma anche la presa in carico dell'importazione di beni di prima necessità in paesi neutrali come la Svizzera e addirittura nel Belgio sotto occupazione tedesca per via della deteriorata situazione interna del secondo Reich per realizzare tutto ciò il consiglio procedette a utilizzare naviglio alleato ma anche neutrale ad esempio svedese olandese che si trovava attraccato in strutture controllate dagli alleati infatti 200.000 tonnellate di navi svedesi vennero utilizzate per arrecare sollievo alla popolazione belga infine ma non per importanza ci fu il supporto fornito al programma militare americano nell'allestire e organizzare quindi il trasporto di beni uomini e mezzi statunitensi da una parte all'altra dell'oceano atlantico il consiglio e questo è un tratto ancora distintivo comincia a fare proposte per espandere i propri già vasti poteri l'utilizzo di eventuali navi nemiche ad esempio e la diffusione di un comunicato ufficiale per rendere conto presso l'opinione pubblica alleata dei risultati ottenuti nei mesi di attività tali risultati vennero ottenuti sicuramente tramite la lacre collaborazione di ufficiali politici ed esperti dei paesi alleati che scoprivano per la prima volta la possibilità di creare un esprit de corps al di fuori dei consueti servizi nazionali ottenuto tramite un rapporto di fiducia sempre più salvo per tutti quei mesi pur potendolo esercitare il potere di veto non venne attivato da alcun paese alleato le decisioni del consiglio derivanti da analisi altamente tecniche risultavano de facto vincolanti mentre la presenza di uno staff multinazionale poneva quegli stessi processi al riparo da accuse di parzialità su basi nazionali il consiglio alleato nonostante i successi ottenuti non riuscì però a superare la prova dell'armistizio del novembre 1918 e venne se volete passarmi il termine sconfitto dalla vittoria alleata le speranze di Solter e Monet di vedere la nascita di un consiglio economico supremo si scontrò con un'opposizione decisiva del governo americano a onor del vero l'alleato meno coinvolto nei lavori del consiglio stesso e le gelosie nazionali riemersero in me che non si dica e mi avvio alla conclusione perché so che l'attenzione dopo un po' può flettere la dipartita del consiglio non rappresentò però la fine dei valori che erano germinate all'interno dell'organizzazione innanzitutto l'armonia di intenti che era andata a maturare tra coloro che avevano lavorato nel e per il consiglio rimase viva e venne non solo elogiata da Salter e Monet che ovviamente avevano interesse a auto incensarsi si potrebbe pensare ma anche da osservatori esterni come Alfred Zimmern che in una relazione redatta nei mesi di guerra aveva notato come al contrario dei primi tempi col passare dei mesi i vari ufficiali del consiglio avevano cominciato a mostrare mutuo consenso e spirito di compromesso tale spirito sarebbe stato da esempio per la società delle nazioni nella quale migrarono innumerevoli personalità di rilievo del consiglio e tra essi in particolare Solter Monet e Attolico il consiglio era stata la prima organizzazione quantomeno per ispirazione sovranazionale e a mostrare la possibilità insondata prima di allora che una burocrazia e un'organizzazione potevano funzionare e generare una distinta cultura coi propri valori al di sopra del livello nazionale ciò fece profonda impressione su vari intellettuali contemporanei come Engel e Mitrani il primo pensatore funzionalista secondo alcuni che andarono a formare i ranghi del pensiero internazionalista di indirizzo liberale e socialdemocratico tra le due guerre e in un certo senso in questo caso la prassi mosse e fece avanzare i confini della speculazione intellettuale ulteriore aspetto che occorre sottolineare è l'enorme impatto che l'esperienza del Consiglio ebbe sull'approccio riguardante le politiche economiche riprendendo la fortunata espressione che da nome alle presenti giornate la mano visibile del Consiglio aveva portato come ricordava l'Economist nel 1921 sotto un unico controllo quasi tutto il tonnellaggio disponibile al mondo potendo muovere tutte le navi del globo secondo la propria volontà e deviarne le rotte sul momento per impiegarle al fine che sembrasse il più pressante un'impresa che a molti economisti ortodossi e prima ricordavamo appunto Keynes che all'epoca era ancora strettamente liberale era sembrata eretica aveva ottenuto un risultato migliore delle aspettative e aveva dimostrato la possibilità e l'auspicabilità in determinati casi di un solido informato intervento di un'autorità pianificatrice allo stesso tempo però il Consiglio aveva indicato le enormi prospettive del potere tecnocratico tale da rendere minima l'interferenza della politica ancora il Consiglio aveva rappresentato una chiara dimostrazione che la secolare tensione esistente tra sfera politica ed economica aveva raggiunto un punto di non ritorno laddove la sovranità si era trovata a prendere la propria decisione finale ovvero la partecipazione a un conflitto totale e globale aveva dovuto gioco forza rinunciare alla pretesa di gestire a un livello nazionale le proprie risorse economiche l'interconnessione delle economie alleate e la spinta sempre maggiore a un utilizzo incrementalmente efficiente delle risorse a disposizione aveva posto le sovranità nazionali di fronte alla paradossale necessità di devolversi a un livello superiore nel momento dell'estremo pericolo e ancora se osservato da un altro punto di vista la sovranità nazionale con la suprema decisione della guerra mondiale si era condannata per un curioso paradosso a non decidere più la decisione sul fine ultimo devolveva automaticamente alla tecnica al sapere specialistico e a quello burocratico tutte le decisioni intermedie su fini secondari e su mezzi ci sono poi ancora nuovi elementi da considerare primi su tutti l'enorme sforzo di omologazione a livello di raccolta dati che venne intrapreso dal consiglio e poi proseguito alla società delle nazioni sotto Solter stesso che divenne capo della sezione economica e finanziaria o ancora l'intuizione della necessità di coinvolgere le opinioni pubbliche a supporto dell'azione del consiglio in questa sede a mo' di spunto per il presente e il futuro appare utile ribadire l'imperativo che l'esperienza di Solter e Monnet sembra indicarci occorre estrema creatività nell'affrontare le sfide che ci si presentano gli strumenti persino le parole e i concetti che adoperiamo nelle pause tra una crisi e l'altra non possono rendere conto dell'infinita complessità nella quale ci troviamo immersi il policy making incrementale di piccolo capotaggio utile assolutamente nelle fasi di equilibrio non può circoscrivere il nostro orizzonte immaginativo e l'attuale crisi pandemica con le iniziative che ha sollecitato in termini di riforma delle nostre economie in senso sostenibile e digitale e la ritrovata attenzione per una crescita che oltre a essere sostenuta deve tornare a essere inclusiva ci ha ricordato una volta ulteriore che la costruzione del benessere non può mai essere solo una questione nazionale e che non possiamo pensare di fare a meno di una dimensione quantomeno europea nelle questioni di governo pubblico allo stesso tempo la governance deve abbracciare un'ottica modulare e sussidiaria che rende inattuali i consueti metri di riferimento con il coinvolgimento attivo e la partecipazione dell'opinione pubblica in tal senso il progetto europeo rappresenta il nostro presente e il nostro futuro e deve essere rilanciato sia in ampiezza che in profondità per verificare così sia l'azione di Jean Monnet padre come saprete delle comunità europee che di James Arthur Solter autore di un panflete del 1933 il cui titolo avrebbe fatto scuola si chiamava infatti gli Stati Uniti d'Europa Allora permettimi di stringere la nani guarda come è lato assolutamente credo che Mario c'è una consegna all'interno di un po' che cosa complimenti complimenti grazie grazie mille bene grazie 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 grazie